Grazie a tutti per essere qui, buongiorno. È un grande onore, una grande emozione avere qui l'Ama Michelle. Siamo veramente felici dell'accoglienza, della vostra presenza così numerosa, grazie infinite. L'Ama Michelle, penso lo conosciate tutti, per me è un esempio di grande coerenza e un grande maestro proprio per questo. La conferenza è offerta libera, io ho preparato lì delle buste che voi vedete lì, poi potete andare a prenderle. C'è una scatola, potete mettere lì oppure darli direttamente all'Ama, alla fine se volete potete venire a salutare l'Ama Michelle personalmente e chiedere una benedizione. Ci sono tanti progetti che loro stanno sostenendo, Onlus, stanno aiutando in Nepal monasteri, scuole, tanti progetti molto importanti. e quindi il denaro che verrà raccolto verrà dato interamente all'Ama e a tutte le cose che loro stanno portando avanti. Quindi grazie per noi come Studium, è proprio un grande onore avere qui l'Ama Michelle. Grazie. Vi do anche il benvenuto a nome del Centro Yoga Studium. Questo è un giorno particolarmente auspicioso per noi. L'abbiamo aspettato da molti anni, perché organizzare un incontro del genere, visto la qualità del nostro relatore, è una cosa che ha delle complicanze. Quindi è una specie di sogno che si avvera, grazie all'Ama Michelle e grazie a Caterina per aver reso possibile questo evento. Oggi parleremo della mente, è molto importante per noi che staremo ad ascoltare l'attitudine con la quale ascoltiamo. Sono insegnamenti preziosi, dal mio punto di vista, indispensabili. Proprio l'altro giorno sentivo un amico che mi diceva, sapete nel mondo dello yoga c'è anche un po' questa, ogni tanto viene chiamata magia, lo diceva lui, io non confermo, che per un certo periodo della sua vita, grazie anche a delle pratiche intense, era riuscito a leggere la mente delle persone. E gli risultava molto semplice sentire, vedere i pensieri delle persone, esattamente come leggere un libro. E poi ha deciso di smettere, proprio perché la trama, uno, spesso non era interessante, due, era illogica, tre, era assolutamente piena di negatività, gelosie, rabbie. Tutti i libri, diceva, che non avrei mai letto, non li avrei mai comprati. Quindi, l'attenzione a ciò che noi produciamo come pensiero e ai contenuti della nostra mente, per me come praticante di yoga, è una cosa indispensabile. Perché la parte, poi, vabbè, adesso sto molto banalizzando, però, più interna di noi, e quello che noi siamo, lo vedremo a un certo punto della nostra vita, negli ultimi giorni o successivamente, quando non ci sarà più un corpo, ma ci sarà quello che noi veramente abbiamo costruito in questi anni. Quindi un insegnamento del genere, che ci aiuta a padroneggiare con questi strumenti, è una cosa assolutamente indispensabile, specialmente in quelle fasi della vita in cui noi ci poniamo delle domande. Quindi io ho finito. Grazie e buona conferenza. Buongiorno. Innanzitutto, è un piacere essere qui con voi. Io volevo ringraziare la vostra presenza. Sono contento, questo per me è un piacere, perché innanzitutto, io vedo che, no, parlo anche per me stesso, e vedo il mondo intorno a me, noi abbiamo la tendenza di passare buona parte della nostra vita, e usando parole di un maestro del Tibet, che si chiamava Tisha, diceva, durante il giorno siamo distratti e durante la notte dormiamo. E la vita passa in fretta. Questo era nell'undicesimo secolo in Tibet, figuriamoci se venisse oggi a vedere come siamo distratti. Siamo distratti da che cosa? Da ciò che rende la nostra vita più significativa. Perciò poter avere un momento per riflettere insieme, con il cuore aperto, con la mente aperta, un po' su ciò che ci aiuta a rendere la nostra vita un po' più significativa, secondo me sono momenti preziosi. Io per cominciare vorrevo innanzitutto fare una brevissima preghiera, che faccio sempre, non importa il contesto in cui mi trovi, ed è una breve preghiera nel quale vado a ricordare i miei maestri, e i maestri dei miei maestri, e anche un momento di gratitudine, perché se c'è qualcosa che posso condividere con voi oggi qui, è perché qualcuno a me me l'ha trasmessa. Perciò la prima parte di questa preghiera è in tibetano, la seconda parte è in sanscrito, molto brevemente, è un momento per me in cui chiedo le benedizioni e ricordo i miei maestri. La seconda parte di questa preghiera è in tibetano, La seconda parte di questa preghiera è in tibetano, Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il mio intento oggi non è quello di insegnare qualcosa di particolare ma è quello di cercare di riportare un po' a noi, a me e a voi quello che, esiste un termine in tibetano che si dice pakyo, che viene tradotto come coscienziosità che per essere ben sincero, che cosa di preciso vuol dire in italiano coscienziosità non mi ricordo però vi dico il significato dal tibetano a cui viene attribuito questa parola la parola pakyo in tibetano tradotto come coscienziosità, quindi in questo contesto si intende dire lo stato in cui siamo consapevoli di ciò che già sappiamo ma che di solito ci dimentichiamo in altre parole, in realtà se noi riuscissimo ad essere consapevoli delle cose che già sappiamo basterebbe tanto poi qualcosina si impara un po' di qua, si impara un po' di là però molto spesso noi non siamo consapevoli delle cose che in realtà noi conosciamo sappiamo a cui non c'è bisogno di nessun tipo di nuova conoscenza ok? perciò il mio obiettivo oggi non è insegnare ma è riflettere un po' insieme condividere con voi alcuni pensieri alcune esperienze che per me sono di beneficio e credo che possano essere anche per voi ok? mi viene in mente un verso di un testo che si chiama Gyulama e il testo in tibetano comincia che in italiano sarebbe qualcosa del genere la malattia è da conoscere le sue cause sono da abbandonare lo stato di salute è da raggiungere e il percorso di guarigione è da intraprendere la cura è da intraprendere quindi la malattia è da conoscere per il processo di guarigione di solito inizia prima di tutto ci serve una diagnosi perché io per esempio ho visto diverse situazioni in cui qualcuno non stava bene e finché non è riuscito a avere la diagnosi giusta si fatica perché uno spara dappertutto non è detto che riesca a beccare il punto giusto e magari spara anche nei punti sbagliati quindi diciamo che una delle cose più importanti per poter intraprendere un processo di guarigione corretto di cura corretta che sia a livello fisico che sia a livello emozionale che sia a livello della società che sia a livello economico possiamo usare in tanti aspetti diversi la prima cosa che abbiamo bisogno è di una corretta diagnosi perciò la malattia è da conoscere le cause della malattia sono da abbandonare io ogni tanto vedo gli amici medici e dico poverini mi dispiace perché abbiamo certe volte questa attitudine che andiamo dal medico perché abbiamo dei sintomi il medico ci dice guarda hai questi sintomi a causa di questo disturbo quindi questa malattia questa malattia è causata da questo quello quell'altro quindi da un modo di uno stile di vita un modo di mangiare questo quell'altro perché tu non abbia più questi sintomi quindi perché tu non abbia più questa malattia per non avere questi sintomi dovresti cambiare certe cose nella tua vita mangiare così fare cosa eccetera eccetera uno dice sì sì la via della consultazione torna a casa per due giorni un po' segue poi un po' di sì poi un po' di no prende le medicine un po' quelle che gli pare un po' quello che non gli pare poi i sintomi diminuiscono smette non siamo tutti così ma spesso succede poi uno torna dal medico e dice come sta eh non sono guarito è ritornato ma sono già venuto da te tre volte come se fosse colpa del medico perciò la malattia è da conoscere ma le sue cause sono da abbandonare perché se io non vado ad abbandonare le cause della malattia anche se io riesco a bloccare i sintomi i sintomi continueranno a ritornare in modi diversi ok quindi la malattia è da conoscere le cause le sue cause sono da abbandonare il terzo punto è fondamentale lo stato di salute è da raggiungere nel processo di guarigione di cura di qualcosa è fondamentale per noi avere un'immagine un'idea di dove vogliamo andare qual è lo stato di salute che voglio raggiungere perché esiste una differenza enorme fra fermare i sintomi e raggiungere uno stato di salute è la stessa differenza che c'è fra una cosa è fermare la guerra un'altra cosa è raggiungere la pace anche all'interno di un rapporto familiare in un rapporto fra due persone una cosa è bloccare il conflitto un'altra cosa è raggiungere l'armonia sono due cose ben diverse quindi che cosa voglio voglio lo stato di salute è importante poterlo immaginare poterlo desiderare poter camminare verso la salute perché se no il percorso finisce per rimanere nel voler eliminare i sintomi anche se nella nostra abitudine quando per esempio abbiamo un mal di testa la nostra tendenza è ah c'è un mal di testa quindi come mai c'è il mal di testa magari sarà qualcosa al fegato la cervicale eccetera eccetera quindi cosa devo fare per eliminare il mal di testa perché voglio raggiungere uno stato di equilibrio di benessere del mio corpo o prendiamo una pasticchia per togliere il mal di testa e punto ossia noi di solito abbiamo la tendenza di occuparci più che altro del sintomo però è importante riuscire a avere una visione dove vogliamo andare qual è l'obiettivo quindi lo stato di salute che è da raggiungere e questo mi ricordo anche che si racconta che circa 3.000 anni fa in Cina i medici lavoravano in un modo abbastanza diverso di come oggi esistevano i medici di famiglia in ogni villaggio in ogni luogo c'era un medico che a sua volta aveva tot numero di famiglie di cui era responsabile un po' simile come oggi in Italia ci sono i medici di famiglia i medici di base e quello che succedeva però c'era una differenza fondamentale il medico veniva pagato dalle famiglie di cui prendeva cura quando erano in salute appena uno si ammalava smetteva di pagare il medico finché eri in salute dovevi pagarlo tutti i mesi il giorno che ti ammalavi non pagavi più quindi cosa facevano i medici all'epoca sta arrivando l'autunno andavano di porta in porta a dire alle persone guarda che sta arrivando l'autunno dovete cambiare la vostra dieta state attenti non mangiare questo mangiate quell'altro ah guarda che vedo che c'è qualcosa che non va tanto bene in te fai questo perché devi riprendere questa caratteristica piuttosto che quell'altra lui si occupava della salute non della malattia la malattia anche ma il suo vero mestiere era occuparsi della salute noi abbiamo un sistema sanitario e non è una critica al sistema sanitario nazionale al contrario a cui ho tanta stima in realtà ma al nostro sistema generale ma anche della nostra vita personale in cui noi non ci occupiamo tanto della salute ci occupiamo della malattia anche mangiare in modo sano sembra che uno lo debba fare quando ormai si è ammalato per non essere più ammalato ok però è fondamentale capire che l'importante non è eliminare la malattia quello è ormai la disperazione per modo di dire è quando ormai non è andato oltre ma lo stato di salute va coltivato per questo deve essere desiderato perciò poi ritorniamo un po' su questo punto la malattia è da conoscere le sue cause sono da abbandonare lo stato di salute è da raggiungere e il la cura il percorso di guarigione la cura è da intraprendere uno non guarisce solamente leggendo la prescrizione guarisce prendendo le medicine facendo gli esercizi cambiando la dieta eccetera 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 ci siamo? ok qual è la funzione del sintomo? in altre parole qual è la funzione del dolore della sofferenza? noi vogliamo eliminare il dolore no? non ci piace il dolore non ci piace la sofferenza no? per sofferenza esiste la sofferenza fisica la sofferenza mentale cominciamo da quella fisica dolore caldo freddo fame sete eccetera qual è la funzione del dolore della sofferenza fisica in questo caso? cosa succederebbe se noi non avessimo assolutamente nessun tipo di dolore o di sofferenza fisica? saremo già praticamente morti perché il dolore in realtà è come un'allarma che suona e dice guarda che c'è qualcosa che non va è come se a un certo punto suonassi l'allarma adesso mentre siamo qua antincendio e noi chiedessimo qualcuno la può spegnere per favore? qual è la funzione dell'allarma? avvisare che c'è qualcosa che non è a posto si sta facendo qualcosa che non funziona io anni fa ho visto un documentario che parlava di una malattia particolare dove sin dalla nascita questi bambini non sentono mai dolore non hanno dolore mi ricordo uno di questi bambini che per esempio a un certo punto lontano dai genitori mise la mano sul fuoco e dice guarda che carino esce il fumo questi bambini di solito si diceva che chi ha questa malattia non vivono più di otto anni di solito sono sani da un certo punto di vista fisico però non avendo nulla per dargli limiti del loro corpo saltano dai secondi piani si rompono tutto si bruciano non hanno assolutamente nulla che li vada a dare limiti che gli dica guarda questo tuo corpo può questo il tuo corpo non può perciò quando abbiamo un dolore quando abbiamo un sintomo in realtà il nostro corpo ha questa caratteristica meravigliosa è come un sistema fatto così bene che in ogni momento anche verso l'esterno fa vedere quello che succede all'interno che noi non siamo tanto allenati a leggere questi questi segnali però se noi fossimo capaci di leggerli sono molto chiari questo una parentesi veloce mi fa ricordare un'amica che è medico che lavora in emergenza nel sud della Spagna quindi è lì nelle ambulanze elicotteri di emergenza eccetera eccetera e mi raccontò che una volta era lì nella emergenza dell'ospedale nel sud della Spagna e arriva una ragazza cinese e dice a lei perché sei qui ha detto no sono qui perché ho l'appendicite ha detto hai del dolore no hai fatto qualche esame no come sai di avere l'appendicite no stavo facendo una consultazione con mio medico cinese in Cina tramite videochiamata gli ho fatto vedere la lingua tramite videochiamata mi ha detto che c'è l'appendicite che devo venire in ospedale e io sono qua ho detto boh l'ha toccata hai del dolore no facciamo un esame di sangue ho dovuto litigare in ospedale con i protocolli dell'emergenza di qua di là ok fatto un esame di sangue niente lei ha seguito un po' la sua intuizione ha detto ma qualcosa ci deve essere se quello gli ha detto di venire fin qua ok ha litigato ancora con il suo capo di qua di là è riuscita a fargli fare un'attacca venuta fuori che aveva un tipo di appendicite super rara che all'inizio non fa male ma se lei fosse tornata a casa qualche ora dopo sarebbe tornata con l'appendicite ormai esplosa quindi in questo caso poi è diventata l'abbattuto in ospedale buttiamo via le macchine e mandiamo la foto della linguincina no è un po' come un medico che ho conosciuto una volta in Nepal era il medico del re si chiamava Manu Vajra e una volta sono andato per trovarlo perché aveva un forte dolore che partiva dal colo qua di fianco e arrivava al dito medio circa qua nel braccio ed era un'epoca che io studiavo anche calligrafia tibetana quindi per scrivere avevo un po' più di tensione nel braccio mi faceva tanto male erano andato in ospedale avevo in India ho fatto tutto alla fine nulla aveva funzionato tanto mi hanno detto che era un problema nella cervicale che ne so io vado da questo medico lui mi dice no il tuo problema è il fegato cosa c'entra il fegato con il colo no circolazione prende queste pasticchie e qua ti passa funzionato faceva uno schifo in un modo pazzesco ma ha funzionato quindici giorni dopo mai più ho avuto quello ma quello che volevo raccontare è che una persona mi ha accompagnato quando siamo arrivati lì solo per accompagnarmi e quando ha finito di vedere me lui dice e te no no non ho bisogno di niente no ma tu non hai questo sintomo quell'altro non hai così 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 e la persona è rimasta e come fai a saperlo guardando la tua faccia vedendo la tua lingua guardando i tuoi occhi osservando il tuo corpo ossia il nostro corpo parla fa vedere quello che succede dentro ok noi non siamo tanto allenarti a leggere no questo mi fa ricordare io ho una cagnolina la mia cagnolina ha imparato a quando ha bisogno di qualcosa abbaia a muto non so avrei mai visto un cane abbaiare muto e fa non l'avete mai visto è una cosa particolare e poi parlando con l'amica veterinare dice guarda i cani hanno 12 livelli diversi per esprimere quando hanno bisogno di attenzione l'abbaiare è uno di quelli più alti quindi prima ci sono altri modi in cui cercano di quando riescono con un modo minore no proprio l'ultimo sarà che vengono ti mordono non lo so però ci sono diversi livelli il nostro corpo fa lo stesso prima manda dei segnali stai facendo una stupidata quello che fai non va bene piccoli segnali quando non funziona a un certo punto arriva il dolore e meno riusciamo ad ascoltare quel segnale e prendere atto più forte diventa quel segnale lì ok quindi questo che cosa vuol dire che il dolore ha una funzione non vuol dire che il dolore sia buono ma il dolore la sofferenza serve per farci vedere che c'è qualcosa che non va e il nostro sistema ha questa caratteristica particolare di evidenziare quando qualcosa è fuori posto quando manca l'equilibrio ok perciò quando ci sono i sintomi vuol dire che c'è qualcosa che non va la cosa importante è che il sintomo in sé non è il vero problema il problema è la mancanza di equilibrio il problema è che c'è un qualcosa che è fuori luogo e per questo genera delle tensioni e fai in modo che tutto il sistema non funzioni bene quindi diventa importante saper ascoltare quello che succede e quanto è importante per il nostro stato di benessere e il nostro stato fisico tanto o poco io direi tanto ok quando il corpo si è ammalato si fa fatica no? questo non è l'argomento di oggi però passo velocemente la salute è qualcosa che va costruita durante la vita non è una cosa che a un certo punto si ottiene ok però parlavo anche qualche giorno fa con dei amici medici specializzati c'era un gruppo che era venuto ad Albaniano al centro che abbiamo fatto un corso che ha fatto parte di un corso dell'università di Milano su psico-oncologia quindi per i psicologi per aiutare loro per affrontare aiutare i pazienti oncologici parlando del tumore eccetera questi vari medici è venuto fuori che uno noi viviamo effettivamente in un'epoca dove c'è un'epidemia di tumore di cancro altro che covid lì si parlava dei numeri in Italia dei numeri in Olanda in Olanda si dice che il 50% della popolazione prima o poi nella vita riceve una diagnosi di tumore in Italia adesso non mi ricordo esattamente uomo e donna mi sono un attimo confuso di comunque sia uno vale più o meno l'altro uno dei due è uno su tre l'altro uno su quattro ma la cosa interessante è che da le ricerche scientifiche le cause prevalenti il 35% delle cause tumorali sono le nostre scelte personali quello che mangiamo come viviamo la nostra vita di tutti i giorni il nostro stile di vita c'è un 22% che riguarda la parte dell'ambiente c'è un'altra percentuale intorno al 20% che riguarda i contesti sociali nelle nostre interazioni c'è un 10% che riguarda la parte genetica ma in poche parole come diceva Buddha io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico dipende da noi però quello che accade per questo dicevo questo perché la malattia è da conoscere le sue cause sono da abbandonare e quando il sintomo c'è quando suona l'alarma è importante capire quell'alarma perché suona perché se suona l'alarma dell'incendio non basta solo scapare qualcuno dovrebbe andare a capire dov'è l'incendio spegnerlo e capire come mai c'è stato affinché non si ripetta perché se la fonte di incendio continua a essere attiva è inutile stare lì a spegnerlo e tanto ritorna sempre ok in questo punto di vista nel nostro caso dobbiamo abbandonare ciò che ci fa male e questo richiede un'attitudine semplice però potente che è di amore verso se stessi e questo è uno dei punti fondamentali nel quale al di là della conoscenza prendere quello che noi già sappiamo e dire ok questo mi fa bene lo faccio è faticoso sì ma lo faccio questo mi fa male mi piace sì però lascio stare perché mi fa male mi voglio bene semplici però potente perché se noi non abbandoniamo ciò che ci fa male continueremo a ripetere ritornare sulle stesse situazioni una volta dopo l'altra ok perciò la malattia è da conoscere cosa ci aiuta a conoscere la malattia i sintomi ok quando c'è una sofferenza mentale e se noi osserviamo nella nostra società c'è più sofferenza fisico mentale c'è qualcuno che ha dei dubbi uno dei maestri di mio maestro si chiamava Chiavce Son Rimpuce maestro dell'amagance Rimpuce in un insegnamento che ho sentito lui una registrazione lui diceva la sofferenza è di due tipi c'è la sofferenza fisica e la sofferenza mentale i poveri soffrono prevalentemente di sofferenza fisica i ricchi soffrono prevalentemente di sofferenza mentale alla fine del giorno si soffre ugualmente fatto sta che noi siamo in una società in un contesto dove c'è tanta ansia c'è tanta paura c'è sono tanti stati di malessere interni e anche se noi vediamo i numeri dell'aumento costante del livello di malessere interiore è spaventoso ci sono delle cose che sono normali basiche e che oggi noi li stiamo perdendo per esempio la capacità di dormire non lo so c'è qualcuno qua che non ha mai avuto problemi per dormire o che non conosce qualcuno che l'abbia o l'abbia avuto ma non lo so avete mai parlato con i vostri noni per chiedere se aveva problema per dormire nei testi antichi di medicina non credo che si parli tanto di quello io una volta ero in Tibet e stavo studiando un pochettino di medicina tibetana e l'avaggancio mi aveva detto di studiare medicina tibetana ho provato un po' ero lì al monastero stavo studiando filosofia buddista però c'era anche la clinica del monastero e ho studiato poco e un giorno ero lì nella clinica a vedere un po' insieme con mio maestro quello che faceva e arrivò questa signora due signore due casi separati arriva uno questa signora che è lì lui dice ok li devo fare la moxa quindi questo con il calore però la moxa la tibetana è un po' diversa della moxa che si vede qui va lì prende il cosettino con l'artemisia lì mette un pozzettino d'aglio gli fa togliere la camicia ed è il primo colpo che aveva avuto è che per noi c'è una questione di pudore cose una signora lì in monastero si toglie col petto nessun problema zero lui misura qua il punto centrale passa un po' d'aglio gli mette la moxa accende si mette a soffiare ma non è che si brucia sto lì a vedere soffia 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 finché scoppia rimane un bruciato proprio lì ha detto ma non prendi un'infezione qualcosa si ma non fa male si ma vedrai che dorme la signora torna una settimana dopo vedo la signora come stai benissimo li mette un po' li ha messo subito appena si è bruciato qua li mette un po' di burro i tibetani sono il burro per tutto un po' di burro c'era un po' di infezione effettivamente poi piano piano è passata una cicatrice tutto lì ho chiesto alla signora come stai ed era contentissima e ha detto dormo benissimo ovviamente una tecnica così qui da noi credo che uno finisce in prigione se fanno cose del genere questo per dire che il problema di non dormire esiste un po' dappertutto però molto meno ok perciò quello che accade che il nostro stato di salute è importante il nostro stato mentale ancora di più e noi viviamo in un contesto dove il livello di sofferenza mentale non è indifferente però prendiamo la stessa logica la sofferenza mentale è un sintomo o è la malattia usando questa metafora l'ansia la paura eccetera è un sintomo è un sintomo che c'è qualcosa che è fuori equilibrio c'è qualcosa che non va bene non stiamo usando il nostro sistema in un modo giusto affinché ci sia salute è importante che ci sia un equilibrio fra tre parti deve esserci corpo mente e ambiente o medio ambiente corpo e mente se io sono in un ambiente malsano non riuscirò a rimanere con un corpo sano e una mente sana ok se sono in un ambiente sano ma io interagisco con quell'ambiente in un modo malsano non riuscirò a tenere il corpo in un modo sano ok e la stessa cosa se interagisco mentalmente emozionalmente in un modo malsano anche se il mio corpo è sano però è con esso quanto è importante l'ambiente tantissimo se l'ambiente non è sano difficilmente uno riesce a star bene se il corpo non è sano difficilmente uno riesce a star bene però è possibile avere una mente sana una mente equilibrata anche in un corpo malsano in un ambiente malsano mettiamola così ambiente sano corpo sano mente malsana è come essere nel paradiso e vivere l'inferno mente sana in corpo malato e ambiente malato è come essere nell'inferno e vivere in paradiso ok però adesso qua stiamo parlando già di un livello molto elevato perché riuscire a mantenere una mente sana equilibrata in uno stato di malattia di uno stato malsano ambientale e fisico vuol dire essere già allenato a un livello non indifferente credo che per la maggioranza di noi siamo ancora nella fase precedente in cui abbiamo bisogno di trovare l'equilibrio fra i tre ok quindi quanto è importante il corpo in questo equilibrio tanto così come l'ambiente così come la mente perciò io non voglio entrare nell'ambito per dire guarda l'unica cosa che conta nella vostra vita è la mente il resto non importa non è vero perché anche il nostro stato mentale dipende dal nostro stato fisico e ambientale tutto è connesso ok cosa succede quando gli ormoni vanno sopra e sotto cambia qualcosa nello stato mentale emotivo sì basta quello che mangiamo già fa un effetto perciò è molto importante quello però qui viene una domanda che per me è importante su cui ho riflettuto per tanto tempo qual è il livello di libro arbitrio che abbiamo quanta libertà abbiamo nelle nostre azioni partiamo da un concetto precedente un attimino solo ed è uno dei concetti per me più importanti in assoluto si dice ovunque c'è interazione inevitabilmente c'è trasformazione non è possibile che ci sia interazione senza che ci sia trasformazione perciò ogni luogo che vado ogni parola che dico ogni interazione fisica che ho ogni pensiero che ho è un'interazione e di conseguenza porta a una trasformazione noi stiamo costantemente in trasformazione eccetera però qual è una delle differenze principali che c'è fra noi e una pietra vogliamo essere un po' più per noi un albero però la pietra mi piace anche la pietra ha un suo processo di nascita e morte nascita vita e morte avete mai visto la morte della pietra non avete mai visto la pietra che comincia a sgrettolarsi è il processo di morte della pietra io poco tempo fa ero in spiaggia camminavo nella spiaggia vedevo la sabbia che cosa è la sabbia la reincarnazione della pietra ok che poi qualcuna qualche pietra trasformata in sabbia poi trasformata in vetro però fatto sta che una pietra ha un suo inizio una sua vita e una sua fine che si trasforma in qualcos'altro e ha delle caratteristiche biologiche ossia così come una pianta eccetera che se interagisce in un certo modo reagisce in un certo modo per questo che una pianta è abbastanza facile da relazionarsi con la pianta perché se tu fai sempre le stesse cose la pianta reagisce sempre nello stesso modo ok è un essere vivo però però non senziente un essere senziente oltre che avere una realtà biologica nella quale ha dei sistemi di reazione ha una parte in cui interpreta la realtà in cui vive e nell'interpretazione della realtà scegli agisce per questo che è più facile interagire con una pianta che con una persona immaginiamo se la pianta avessi questa caratteristica gli metti l'acqua tutti i giorni un giorno dice oggi non voglio fiorire mi sono svegliato storto ieri mi hai guardato con una faccia strana non mi piace che ne so io ok però quello che succede è che noi abbiamo questa caratteristica nella quale noi in ogni momento stiamo lì a interpretare a percepire con la nostra interpretazione il mondo in cui viviamo e qui c'è un primo punto importantissimo che riguarda la nostra mente voi riuscite a vedermi? sì? io vi vedo voi mi vedete giusto? se chiedete alla persona a fianco tu stai vedendo il lama? quale sarebbe la risposta? sì che lama vedi te? quello che vedo io? senza filosofare diremo? sì quanti sono qua? uno non è che c'è tanto qua da dire se andiamo ad analizzare un pochettino di più facciamo un esempio mentre io vi parlo che cosa arriva al vostro udito? suoni o parole? ho fatto la stessa domanda in tibetano ok? perciò quello che succede che cos'è? in realtà come funziona? tipo suono la campana cosa accade? c'è una vibrazione nell'aria anche quando parlo quella vibrazione nell'aria che noi chiamiamo di suono entra in contatto con il nostro potere sensoriale dell'udito che hanno i suoi sensori che percepiscono queste varie vibrazioni questo sensore a sua volta viene percepito da quello che nella tradizione buddista viene chiamata la coscienza sensoriale uditiva che è la parte della nostra mente che percepisce il nostro sensore del potere dell'udito e poi lì abbiamo che c'è quel suono lì su quel suono cosa facciamo noi? andiamo a attribuire un significato ok? quindi mentre io vi sto parlando quello che arriva a voi in realtà sono suoni cosa facciamo ognuno di noi a questi suoni? andiamo a attribuire un significato per quello io ogni tanto chiedo avete capito? ogni tanto vedo sì io mi chiedo ma che cosa avranno capito? perché la comunicazione verbale quando funziona è un miracolo praticamente vuol dire che io c'ho dei pensieri che io c'ho dei sentimenti qualcosa di soggettivo mio che va al di là delle parole che io lo converto in parole si trasforma in suono il suono magari batte da tante parti arriva all'altra persona l'altra persona lo riconverte in concetti ed emozioni è come se noi quando mandiamo un messaggio per telefono piuttosto che per email questo messaggio viene incriptato perché si possa leggere dall'altra parte l'altra parte deve avere la chiave per decriptare per decriptare quel messaggio immaginiamo che fra di noi ogni momento succede quello però la nostra chiave non è proprio precisa quindi non riusciamo a decriptare esattamente bene ogni tanto qualcuno viene e dice ma nessuno mi capisce non ti preoccupare nessuno mai ti capirà perché nessuno mai ci vedrà così come noi ci vediamo e qua un consiglio semplice e veloce come utilizziamo la nostra parola va a determinare come utilizziamo il nostro pensiero quindi è molto molto importante come si parla le parole che utilizziamo e come si parla è fondamentale e ci sono alcune cose che io per esempio ho tolto dal mio vocabolo la prima cosa non dire mai tu hai detto o lui ha detto lei ha detto dire così ho capito perché cosa tu hai voluto dire non faccio una minima idea io l'unica cosa che posso essere sicuro è quello che mi ricordo di aver capito che è diverso di quello che ho capito anche perché è passato un po' di tempo o no non so se a voi mi è mai capitato a voi che qualcuno dice tu hai detto questo no non l'ho detto poi dopo di un po' non si ricorda invece l'ho detto non lo so io mi fido della mia memoria fino a un certo punto pochi giorni fa qualcuno venne da me e dice ma quella persona lì mi hai detto che tu hai detto questa cosa qui mi hai detto io non mi ricordo di averlo detto se l'ho detto meno sinceramente non me lo ricordo se dovessi ridirlo non sono d'accordo con quello che è stato detto ok perché però fa una indifferenza enorme che prima cosa uno non è più in opposizione perciò non dire più tu hai detto dire così mi ricordo così ho capito ok altra parola da togliere dal vocabolo poi torniamo un attimo indietro facciamo una parentesi veloce un giorno mi trovavo con mia sorella a San Paolo in Brasile dovevo fare questo tanti anni fa dovevo fare il vaccino di febbre gialla come brasiliani per viaggiare serviva l'epoca il vaccino di febbre gialla quindi ok andiamo a fare il vaccino di febbre gialla mia sorella mi chiede vuoi andare in macchina o in metropolitana io dico andiamo in macchina vabbè 45 minuti per arrivare nel posto un traffico allucinante un'altra quarantina di minuti per trovare parcheggio 10 minuti per fare il vaccino un'oretta per tornare a casa mia sorella mentre eravamo in mezzo al traffico mi dice vedi se fossimo andati in metropolitana saremo già a casa e potremmo stare a guardare un film io dico a lei hai ragione ma e se fossimo andati in metropolitana e tu fossi caduto e avessi rotto un braccio saremo adesso in ospedale e se fossimo andati in metropolitana e qualcuno avessi rubato la mia borsa saremo adesso in questura questo non era per andare contro la metropolitana era per dire che dopo la parola se qualunque cosa può venire e da quel giorno in poi ho scelto di togliere il se condizionato al passato se avessi detto se avessi fatto se tu non avessi detto se tu non avessi fatto se questo fosse così se quello fosse cosa per esempio poco tempo fa mi è successa una cosa difficile faticosa con essa con me e e la tendenza è di cominciare a chiedersi eh ma se avessi fatto così e se lui avessi fatto cosa è successo però il fatto di non utilizzare la parola condiziona la mente e quindi uno dice ok è successo così adesso cosa posso fare guardando in avanti poi torneremo su questo concetto però è importante togliere il se condizionato al passato non si usa più si dice è successo questo ho imparato che è meglio non rimetterlo ma cosa sarebbe successo se la realtà è che non facciamo la minima idea perché le varianti sono troppe ok torniamo a noi quindi mentre io parlo cosa sentite suoni o parole suoni no stiamo parlando una lingua che ci capiamo ossia abbiamo gli stessi la stessa convenzione fra suoni e concetti ma spesso anche lo stesso concetto ha definizioni diverse ha significati diversi se io vengo e ti dico io ti amo aspetta cosa vuoi da me dipende che cosa non intende per amore eccetera eccetera ok nello stesso modo mentre voi mi vedete e io vi vedo in realtà io non vedo voi e voi non vedete me voi vedete la vostra versione di me e io vedo la mia versione di voi così come voi non sentite quello che io dico voi sentite quello che voi riuscite a sentire e così anch'io non perché siete voi sono io siamo tutti così noi non siamo capaci di vedere fuori quello che non c'è un corrispondente dentro è pazzesco ma non stiamo parlando di una questione emozionale stiamo parlando proprio anche di cose fisiche io ho avuto una mia esperienza su questo e lo racconto perché questi aneddoti poi ci aiutano a ricordare le cose anni fa ero lì ad Albagnano stavamo per cominciare a costruire il tempio eccetera e uno degli architetti con cui stiamo facendo il progetto viene e mi dice guarda che dovremmo fare qua una cabina di trasformazione elettrica ho detto cabina di trasformazione inizialmente ho detto va bene ho detto com'è questa cabina ma visto le necessità di qua ci sono i pannelli fotovoltaici quindi la parte privata la parte dell'Enel un due metro e cinquanta per quattordici metri ho detto cosa e quanto costa una cabina di questa lasciamo stare una roba sproporzionale una roba enorme ma non solo per la struttura ma quello che va messo dentro ho detto non so quanti di voi avete una cabina di trasformazione a casa avete mai fatto una cabina di trasformazione è quello che ho detto io all'architetto ho detto no io guarda io ho mai visto una cabina di trasformazione perché noi la dobbiamo fare e lui mi ha spiegato le ragioni tecniche di qua e gli ho detto no no non ci sono non sono d'accordo perché io la devo fare quando non ci sono cabine lui ha detto no ci sono tantissime in giro ho detto non è vero non le ho mai viste a un certo punto mentre passavano quei giorni guidavo da solo ero in macchina da solo andando da Albagnano a Malpensa un tragitto che avevo fatto già tantissime tantissime volte e a un certo punto vedo le cabine di trasformazione come funghi una dopo l'altra e ce ne sono tantissime di ogni forma colore e proprio sono dappertutto prima non c'erano vi assicuro quando noi abbiamo un concetto a quel punto siamo capaci di vedere perché quello che appare ai nostri occhi sono forme e colori non sono oggetti ok il punto che voglio arrivare è che quando noi vediamo il mondo percepiamo la realtà tramite i nostri sensi noi abbiamo la consapevolezza che noi vediamo la realtà tramite il filtro di noi stessi o crediamo di vedere la realtà oggettiva come appare a noi la realtà che noi percepiamo appare a noi come se fosse come essendo soggettiva o come se fosse oggettiva nel nostro modo spontaneo di vivere la vita oggettiva quindi in poche parole noi viviamo in una realtà soggettiva che appare a noi come se fosse oggettiva e noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva questo nel buddismo si chiama ignoranza ok ed è un punto fondamentale perché quando io mi trovo davanti a una situazione di qualunque genere sia essa quello che io percepisco non è indipendente da me io non sto dicendo che la realtà esterna non esista ma la realtà la realtà esterna di ogni cosa che io percepisco non esiste indipendentemente dalla mia realtà interna assolutamente di nulla quindi noi costantemente viviamo e percepiamo la realtà e anche la realtà di noi stessi la nostra propria identità anche tramite i vari filtri di noi stessi sono tanti filtri che abbiamo alcuni filtri sono filtri emozionali altri altri sono filtri di tutte le informazioni che abbiamo ricevuto fin d'oggi dal contesto culturale sociale educazione tutte le cose che le notizie che abbiamo letto le cose che abbiamo parlato con gli amici i sogni che abbiamo avuto una parte di questi filtri questi filtri sono anche le caratteristiche che secondo la visione buddista uno porta di vita in vita possiamo usare il termine delle predisposizioni che portiamo con noi in ogni momento c'è una parte di questi filtri che è il nostro corpo nel momento presente c'è una parte genetica in tibetano si dice rigyu ghiu yenten sono le caratteristiche che vengono dai nostri antenati e vengono dai nostri genitori e così via che arrivano a noi oggi in altre parole nel momento presente quanto siamo condizionati nella nostra esperienza e di conseguenza nelle nostre scelte vediamo siamo liberi dalle nostre esperienze futte nel passato siamo liberi dai traumi piuttosto che le gioie siamo liberi dalle informazioni che abbiamo ricevuto dal contesto in cui siamo cresciuti dal contesto in cui ci troviamo nel momento presente dal nostro stato fisico eccetera no in altre parole noi non siamo liberi dal nostro passato e dal nostro presente ok se volessimo paragonare secondo me la nostra libertà il nostro liberbitrio paragonato con i 360 gradi che sarebbe una libertà totale secondo me abbiamo circa mezzo grado di libertà che è tantissimo perché prima cosa immaginiamo una linea che a un certo punto si apre di mezzo grado sembra niente a lungo andare crea una distanza enorme seconda cosa di mezzo grado in mezzo grado si cambia il mondo ok dov'è la nostra libertà nelle piccole piccole azioni però dove parte la nostra libertà nel corpo o nella mente nella mente quello che succede le nostre interazioni fisiche nascono nella mente le nostre interazioni con l'ambiente nascono nella mente la risorsa più potente che noi abbiamo per fare qualunque cosa è la nostra mente sia per fare del bene che per fare del male se noi vediamo le guerre i problemi di fame di malattie che non si riesce ad applicare le cure che già si conoscono i conflitti di ogni genere dove nascono in problemi esterni o in caratteristiche problemi interni della mente dell'essere umano nascono prevalentemente da uno dei conflitti maggiori che abbiamo uno dei se vogliamo usare un termine informatico come se fossi dei bug dei virus delle cose che abbiamo che è l'ossessione all'autogratificazione l'ossessione all'autogratificazione è anche detta egoismo è il fatto che ognuno di noi viviamo noi stessi come se fossimo la cosa più importante mai esistita e che mai verrà ad esistere in tutto l'universo e noi non siamo capaci di interagire con nulla che non sia tramite la relazione con noi stessi questo si manifesta in un senso più ampio noi come esseri umani siamo una specie di un livello di egoismo pazzesco dove nulla ha un senso se non in relazione a noi stessi e quindi noi vediamo tutto il mondo intorno a noi l'ambiente la natura che esiste a nostro servizio addirittura la natura viene chiamata risorse naturali perché ogni cosa l'acqua la terra gli animali le piante qualunque cosa che non sia umano anche gli umani sono risorse risorse umane e risorse naturali ma è qualcosa che esiste per servire ai miei desideri ai miei bisogni sono al servizio mio e questo centralizzare noi stessi in mezzo a tutto e mettersi con questa attitudine di vivere ogni cosa al servizio di noi stessi è uno di questi punti più deboli che crea la nostra sofferenza ok però non è l'argomento di oggi però fatto sta che la nostra mente crea la sofferenza io sono sicuro che se noi dovessimo veramente fare una campagna a livello mondiale e fare uno sforzo congiunto se ci fosse la base che oggi non vedo per fare veramente qualcosa di serio per la pace e per risolvere i problemi ambientali sociali economici politici geopolitici basterebbe fare veramente un lavoro reale concreto sincero profondo su una cosa eliminare l'egoismo perché è la causa primaria però ritorniamo a dove eravamo il punto che voglio arrivare è che anche le cose esterne più grandi nascono nella mente quindi la nostra mente è uno strumento di un potere spaventoso in tutte le direzioni e qualunque interazione porta trasformazione ma il modo in cui noi andiamo a interagire dipende principalmente dalla nostra mente e qui ci sono però delle piccole 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 cose di libertà faccio non faccio vado non vado dico non dico sì no qui lì piccole cose con le quali noi riusciamo gradualmente a trasformare il nostro modo di vivere ok adesso la malattia è da conoscere le cause sono da abbandonare lo stato di salute è da raggiungere quale sono prima di tutto le cause della nostra sofferenza dell'opposto della felicità che felicità e sofferenza sono due lati della stessa cosa non è possibile star bene mentre si soffre noi crediamo adesso vado direttamente al punto ok in grande linea noi crediamo di soffrire per tre ragioni noi crediamo di soffrire uno perché non possiamo avere quello che vogliamo perché la persona non è come dovrebbe essere la situazione non è come dovrebbe essere perché la realtà che ci circonda non è come secondo noi dovrebbe essere quindi uno crediamo di soffrire perché non possiamo avere quello che vogliamo due crediamo di soffrire perché dobbiamo vivere situazioni che non vogliamo tre crediamo di soffrire perché ci dobbiamo separare da ciò che ci piace persone situazioni luoghi oggetti chiaro questo quando non riusciamo ad avere quello che vogliamo quando la realtà non corrisponde a quello che secondo noi dovrebbe essere rimaniamo male quando viviamo qualcosa che non vogliamo anche e quando ci dobbiamo separare da qualcuno da qualcosa che ci piace di solito anche e se noi facciamo una sorta di riassunto di tutte le nostre sofferenze osserviamo le nostre varie sofferenze le mettiamo nei varie categorie cerchiamo di riassumere vedremo che probabilmente riusciamo a riassumere tutte le sofferenze in queste tre cose ok conseguentemente dove proiettiamo la nostra felicità nei tre opposti noi crediamo non a livello concettuale ma molto spesso io dico noi sto generalizzando non vuol dire che ognuno sia così però in un senso generale noi proiettiamo la nostra felicità nel avere tutto quello che voglio evitare tutto quello che non voglio e trattenere quello che mi piace che è un po' la descrizione di paradiso uno dei modi in cui si va a descrivere il paradiso perché poi alla fine molto spesso la descrizione di paradiso è dove noi proiettiamo tutto quello che vorremmo in questa vita tolto tutto quello che non vorremmo che c'è dopo la morte praticamente è un po' quello per questo che io sono convinto se noi dovessimo ridiscrivere il paradiso oggi se oggi dovessi inventarmi un modo per convincere i ragazzi giovani a comportarsi in un certo modo perché se fanno quello andranno in paradiso dovrò inserire nella descrizione del paradiso internet perché uno dice va bene ma c'è internet no e le varie piattaforme per vedere i film ci sono neanche cosa faccio lì tutto il giorno per l'eternità mamma mia però il concetto di paradiso di solito cambia di cultura e cultura di tempo in tempo perché è dove noi proiettiamo una realtà dove abbiamo tutto quello che vogliamo libero da quello che non ci piace e che dura per sempre però noi cerchiamo di realizzare quello in questa vita o no noi cerchiamo costantemente di ottenere quello che vogliamo addirittura cerchiamo di fare in modo che le altre persone corrispondano a quello che secondo noi dovrebbero essere o dovrebbero fare cerchiamo di evitare le cose che non ci piacciono cerchiamo di trattenere le cose che ci piacciono o no se noi per un attimo ci permettiamo di sognare e immaginiamo se veramente fosse possibile avere tutto quello che vogliamo evitare tutto quello che non vogliamo e trattenere quello per sempre saremo felici? Io direi di sì filosoficamente la risposta è no ok però così di instinto la voglia dice proviamocelo almeno ok la realtà è che ha un'enorme illusione vediamo il primo punto è possibile ottenere tutto quello che vogliamo? Qual è la regola della vita? Più ne ho e più ne voglio più ne voglio e meno ho perché quanto ho non è una realtà oggettiva ma si basa è una realtà soggettiva che si basa su un valore attribuito sulla base di un paragone o no? se è tanto se è poco se io ricevo tanto affetto poco affetto se ho tanti soldi ho pochi soldi se ho tanto tempo poco tempo se ho tanta salute poca salute è qualcosa di oggettivo o è qualcosa di soggettivo quindi un valore che viene attribuito sulla base di un paragone è soggettivo quindi qual è il modo più facile per essere più ricco? voler meno meno voglio più ho ricordiamoci che la soddisfazione che è uno dei punti più importanti per la felicità la soddisfazione non si ottiene tramite gli oggetti di desiderio ottenendo gli oggetti di desiderio la soddisfazione si ottiene valorizzando quello che abbiamo non ottenendo quello che non abbiamo però il fatto sta che più ne ho e più ne voglio una cosa che questi giorni sto ricordando perché per me ha un senso la descrizione perché poi queste cose il nostro modo di vivere il mondo poi si riflette anche nella nostra società ok e noi proiettiamo la nostra felicità nel poter avere quello che vogliamo evitare quello che non vogliamo e il primo punto per esempio si manifesta nel nostro sistema economico definizione di economia definizione classica di economia sono alcune definizioni più moderne mi hanno detto però mi hanno insegnato che la definizione classica di economia dice l'economia è la scienza per fare in modo di soddisfare il desiderio infinito dell'uomo con le risorse finite della natura la scienza per far soddisfare il desiderio infinito dell'uomo con le risorse finite della natura poi oggi c'è chi dice ok le risorse sono finite quindi dobbiamo reciclare dobbiamo essere sostenibili ottimo ma comunque continuiamo a cercare di soddisfare qualcosa di infinito è possibile soddisfare qualcosa di infinito se fossi l'unico modo è con qualcos'altro di infinito ok ma con qualcosa di finito non funziona ma nella nostra vita cerchiamo di riempire il vuoto che c'è dentro di noi con oggetti situazioni persone cercando ogni volta di ottenere ciò che voglio tramite una manipolazione scusate il termine del mondo che ci circonda lo facciamo o no quando stiamo male dove puntiamo il dito dentro o fuori prevalentemente fuori perciò la nostra tendenza è di vittimizzarci dire se io sto male è perché c'è qualcosa che non va nel mondo perché se dipendesse da me io starei benissimo non so se avete mai pensato questo ma questo è il nostro modus operandum più comune eh perciò quello che succede è ritorniamo al punto precedente è possibile o no ottenere tutto quello che vogliamo no e quindi questo già in per sé è una illusione cosa diresti a me se io mi mettessi a piangere e a soffrire perché il sole nasce da est e la mia finestra di camera mia da verso ovest io volevo il sole al mattino sei scemo soffri per nulla ok perché in Brasile noi abbiamo termine che una cosa che dice o chi non temi soluzione soluzionado sta ciò che non ha soluzione è già risolto di suo ok ciò che non si può risolvere è già risolto di suo che vuol dire quello che non è un problema è un dato di fatto il sole nasce da est non può nascere da ovest è un dato di fatto punto che a te ti piace che a te non ti piace è un problema il problema è che ti piace o meno non è dove nasce il sole perché quello è un dato di fatto è chiaro questo? quindi se io soffro perché il sole nasce da est e io volevo che nascesse da ovest il problema dov'è? è nel fatto di dove nasce il sole o nel fatto che io non riesco ad accettare dove nasce il sole e io voglio una cosa che è incoerente con la realtà fisica dove mi trovo perché dove nasce il sole è un dato di fatto non posso cambiarlo mentre invece come io interagisco e come io vedo questo è qualcosa che posso cambiare quindi è un problema il problema è qualcosa che può avere una soluzione ci siamo? la realtà è che noi non soffriamo perché non possiamo avere quello che vogliamo in realtà noi soffriamo perché vogliamo ciò che non possiamo avere non perché il mondo è cattivo e c'è qualcuno che non ce lo permette di avere semplicemente perché le cause condizioni tutte le interazioni che abbiamo avuto finora della nostra vita non rendono possibile quella cosa lì quindi io non soffro perché non posso avere ciò che voglio io soffro perché voglio ciò che non posso avere e se lo voglio tanto avere devo fare qualcosa per averlo dopo ma in questo momento non c'è ok secondo non è vero che io soffro perché devo vivere delle cose che non mi piacciono io soffro perché io non so affrontare bene le situazioni in cui mi trovo è possibile vivere una vita senza problemi qua c'è l'altra regola la prima è più ne ho più ne voglio la seconda è finisce un problema e comincia un altro e cosa succede quando c'è l'eccezione finisce un problema e non comincia un altro lo creiamo noi questo è quello che succede di solito ok perciò io ho capito questo un po' di anni fa avevo circa 18 anni nel 99 e era la prima volta che ero venuto ad Albagnano era una serata pioveva Francesco e Gabriella mi portano in macchina dall'aeroporto che arrivavo dall'India e Francesco mi dice anche se fa buio e piove ti faccio fare il lungo lago io ero lì ero stanco ho detto ma quale lungo lago un altro momento lo vado a vedere voglio arrivare sono stanco solo dico questo per farvi capire che non era un momento mistico particolare in quel momento non so perché in quel momento capisco una cosa che mi ha cambiato la vita problemi ci sono e ci saranno sempre io mi sono detto che bello ma veramente non dico che bello in un modo sarcastico veramente che bello perché se i problemi esistono ed esisteranno sempre io non devo più passare la vita con l'obiettivo di risolvere i problemi perché io fino a quel punto passavo la mia vita cercando di risolvere le cose con l'illusione che finito questo andrà tutto bene anche quando ci troviamo no? abbiamo questa manifestiamo questa lusione va tutto bene? chiediamo no? diciamo sì ma dove? ma quando? io non ho mai visto andare tutto bene ok? però quello che succede che cos'è? da quello ho sviluppato un mio obiettivo molto chiaro che è io voglio star bene con me e con gli altri essere in armonia star bene con me e con gli altri indipendentemente di dove sono con chi sono in quale situazione mi trovi perché se io devo condizionare il mio stato di felicità a dove sono con chi sono in quale situazione mi trovo sono fregato dalla partenza non riuscirò mai ovviamente si interagisce con il mondo cercando di anche avere situazioni che per noi sono più facili da affrontare in un modo in un altro ma non è quella la condizione fondamentale perciò io dico è come io vivo il mondo perciò non è possibile avere tutto quello che vogliamo non è possibile evitare quello che non vogliamo però sono due illusioni in cui noi crediamo il terzo punto è possibile evitare quello che di separarci da quello che ci piace quindi non è vero che noi soffriamo perché ci dobbiamo separare da ciò che ci piace persone situazioni oggetti è qua un po' più dura da dirlo ma la realtà noi soffriamo non perché ci dobbiamo separare ma perché non siamo consapevoli dell'impermanenza in cui viviamo che è la natura normale delle cose e quindi noi proiettiamo una realtà permanente in ciò che è impermanente quindi noi riusciamo ad affrontare la cosa più naturale che c'è in ogni cosa che è un processo costante di trasformazione ok adesso come l'altro si comporta mai capitato nella vostra vita che qualcuno si comportasse in un modo aggressivo per esempio in un modo che non vi piacesse nei vostri confronti che è mai capitato c'è qualcuno a cui questo non sia mai capitato non immagino quando qualcuno si comporta in un modo che non ci piace nei nostri confronti il modo in cui nei nostri nel nostro nel nostro modo nelle nostre possibilità come tu ti comporti a un problema tuo non perché io me ne frego di te ma perché io posso fare di tutto e di più non potrò cambiare te ok prego assolutamente perciò che cosa succede dal momento in cui il modo in cui tu ti comporti non dipende da me io nel massimo posso interagire con te e aiutare te nella tua trasformazione perché ogni interazione porta trasformazioni quindi quando io parlo con te quando io penso a te quando interagisco fisicamente con te in qualunque interazione che ho con te io partecipo al tuo processo di trasformazione sono una piccola parte nell'equazione del tuo essere di quello che sei ok ma non dipende da me io non posso cambiarti né a te né a nessun altro né a nessuno può cambiare nessuno perciò come l'altro si comporta è un problema suo come io lo vivo è un problema mio è chiaro questo vuol dire tanto ossia nella mia realtà personale come l'altro si comporta un dato di fatto non è qualcosa che dipende da me come io interagisco nei suoi confronti è un problema mio perché perché c'è soluzione ok e su questo punto c'è un passaggio di un libro che mi sono ricordato che ve lo voglio leggere ce l'ho scritto qua è un libro che vi consiglio anche di leggere aspetto un attimino che lo trovo ecco ce l'avevo anche già il libro si chiama il camino dell'uomo piccolo piccolo un libro piccolissimo veramente bello non buddista né orientale di l'autore si chiama Martin Buber e leggo questi due passaggi dice bisogna che l'uomo si renda conto innanzitutto lui stesso che le situazioni conflittuali che lo pongono agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali presenti nella sua anima e che quindi deve sforzarsi di superare il proprio conflitto interiore per potersi così rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato pacificato e allacciare con loro relazioni nuove trasformate e poi un'altra parte un po' dopo va avanti e dice cominciare da se stessi ecco l'unica cosa che conta e questo in questo preciso istante non mi devo occupare di altro al mondo che non sia questo inizio quindi cominciare da se stessi ogni altra presa di posizione mi distoglie da questo mio inizio intacca la mia risolutezza nel metterlo in opera e finisce per far fallire completamente questa audace e vasta impresa cominciare da me stesso il punto di archimede a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo è la trasformazione di me stesso se invece pongo due punti di appoggio questo è uno dei punti importanti se invece pongo due punti di appoggio uno qui nella mia anima e l'altro là nell'anima del mio simile è in conflitto con me quell'unico punto sul quale mi si era aperta una prospettiva mi sfugge immediatamente ossia come l'altro si comporta non è un problema mio ma se io lo faccio un problema mio a quel punto io perdo l'opportunità che ho di risolvere la mia parte perché la nostra tendenza dinanzi a un conflitto con l'altro è di vittimizzarci ossia io sono così perché perché lui ha detto perché l'altro ha fatto perché di qua perché di là uno dei passaggi più importanti è che ci vuole coraggio e che non è immediato è graduale ma uno dei passaggi più importanti nel nostro percorso spirituale è quello di riuscire a smettere di vittimizzarsi quello nel quale noi stessi prendiamo e diciamo ok io faccio la mia parte ma non sono la vittima del mondo questo non vuol dire che non ci sono modi di comportarsi cose che avvengono che a me non mi piacciono o che non vuol dire che tutto è perfetto io che sbaglio non è quello il punto è io cosa posso fare io posso lavorare sui miei pensieri sulle mie azioni e sulle mie interazioni fisiche non è che posso fare altro ed è lì che faccio la differenza partendo da me stesso ok perciò non è possibile ottenere tutto quello che vogliamo non possiamo evitare quello che non vogliamo non possiamo trattenere per sempre quello che vogliamo quindi dov'è la felicità che cosa voglio e questo è uno dei punti per me più importanti in assoluto e non è facile nel buddismo il termine che viene utilizzato viene chiamato nechum in tibetano tradotto come rinuncia traduzione pessima la traduzione più corretta sarebbe la certezza di poter emergere ok ma che in altre parole si dice che il punto di partenza nel nostro percorso spirituale nel buddismo io lo traduco come innamorarsi della pace interiore che in altre parole vuol dire nessuno fa ciò che non vuole noi facciamo ciò che vogliamo ciò che desideriamo magari qualcuno ha già sentito dire ah che nel buddismo uno deve eliminare il desiderio che il desiderio non va bene è un veleno mentale va eliminato il desiderio dipende che cosa si intende per desiderio però il desiderio inteso come voler qualcosa è fondamentale la domanda è cosa voglio perché noi mettiamo la nostra energia in ciò che noi vogliamo e qua cosa succede in ogni momento della nostra vita noi interagiamo e tramite le nostre interazioni noi ci trasformiamo a noi e facciamo parte della trasformazione del mondo che ci circonda chiaro questo abbiamo già ripetuto diverse volte ok però quello che accade è che il modo in cui mi trasformo la direzione in cui interagisco dipende innanzitutto da che cosa io voglio io mi pongo questa domanda in fondo in fondo cosa vogliamo non a livello concettuale filosofico non dobbiamo ripetere qualcosa che abbiamo letto in un libro che qualcuno che ci ha raccontato o magari è il riassunto di anni di studio di filosofia di qualunque genere o di religione in cui diciamo io quello che voglio è il nirvana che cosa è il nirvana non so neanche bene veramente profondamente non concettualmente nelle mie azioni nella mia vita io cosa voglio come faccio a sapere cosa voglio osservo dove metto la mia energia cosa faccio mi sveglio il mattino e penso ah devo mantenere la pace devo essere gentile coltivare l'amore oggi è una bellissima giornata oggi la mia giornata sarà dedicata a praticare la pazienza perché guarda io devo per forza riuscirci e no oggi è la giornata io voglio coltivare la generosità la stabilità devo capire la realtà del mondo in cui vivo voglio uscire da questo ciclo di ignoranza e non ce la faccio più di rimanere così intrappolato in mezzo a questa ossessione all'autogratificazione voglio aprire il mio cuore agli altri o siamo preoccupati a risolvere i problemi del lavoro a mangiare quello che ci piace a divertirci a cercare di sopravvivere in un modo confortevole evitando i problemi ottenendo i piaceri più il secondo no? quindi come abbiamo la prima cosa che ci siamo detti oggi di giorno siamo distratti di notte dormiamo distratti da che cosa? da ciò che rende la vita più significativa e quindi io su questo vi invito a porvi la domanda io cosa voglio? non tanto io cosa voglio fare o io cosa voglio avere che sono le due domande più comune che lavoro voglio fare che cosa voglio fare che cosa voglio avere la famiglia i soldi la immagine il potere piuttosto che ma queste sono banalità della vita quello che è importante è io chi voglio essere indipendentemente da tutto il resto io voglio essere una persona paziente equilibrata soddisfatta gioiosa amorevole consapevole e cosa non voglio essere? io non voglio essere per esempio per me uno dei miei punti deboli è la pigrizia io lì mi sono messo uno dei miei obiettivi io non voglio morire più pigro di come sono nato ma no non ci sto figuriamoci rinascere pigro ancora no e quindi è un obiettivo che ci vuole lavoro c'è chi per esempio ha più rabbia c'è chi ha più attaccamento c'è chi ha più invidia c'è chi ha più ansia ognuno ha la sua quindi che cos'è che io non voglio essere e che cos'è che io voglio essere e qualcuno mi potrebbe dire guarda però questa idea di star bene con se stessi e con gli altri indipendentemente di dove sono con chi sono in quale situazione mi trovo è un'utopia non nel buon senso dell'utopia è una cosa impossibile non ci farò mai ma dove siamo fatti così di qua di là eccetera eccetera in parte sono d'accordo però domanda la visione di mondo nella quale noi viviamo gli obiettivi che noi inseguiamo ossia di avere tutto quello che vogliamo evitare quello che non vogliamo trattenere quello che ci piace raggiungere uno stato di felicità tramite le condizioni esterne prevalentemente tramite le condizioni esterne è un'illusione o no enorme altro che utopia la propria definizione di economia è utopica o no però qual è la funzione dell'utopia una volta ho sentito un poeta argentino parlare di questo non mi ricordo il suo nome purtroppo ma lui diceva l'utopia è come l'orizzonte più ci cammini verso l'orizzonte più l'orizzonte si allontana quindi qual è la funzione dell'utopia farci camminare in una certa direzione noi oggi stiamo camminando nella direzione di consumare le risorse finite della natura per cercare di soddisfare il desiderio infinito che abbiamo dentro di noi questo vuoto che viene creato invece se noi mettiamo come obiettivo uno stato di pace di armonia di gioia di soddisfazione di consapevolezza di presenza di equilibrio di amore di gratitudine di generosità di rispetto e metto quell'immagine idealizzata quell'obiettivo idealizzato utopico se vogliamo usare questo termine che è quello che rappresenta nel buddismo l'immagine di buddha stesso ma quando noi lo vogliamo veramente camminiamo in quella direzione e camminando in quella direzione arriveremo in luoghi che altrimenti non arriveremo mai ok questo ci porta a due attitudini fondamentali la prima riguarda la nostra attitudine verso il passato e il presente che è per poter camminare bene dobbiamo prima di tutto essere in pace con dove siamo che se io continuo a riguardare indietro ma io non dovrei essere qua ma questo non è il luogo giusto non va mica bene eccetera eccetera non guardo avanti dove voglio andare è un po' come mi è capitato in Brasile un po' di anni fa sono passati ormai più di dieci anni che era un periodo dove c'era una situazione molto difficile dal punto di vista economico e sociale e politico ancora oggi è molto difficile però era un periodo in cui c'erano tante manifestazioni per strada eccetera magari chi conosce un po' più del Brasile magari si ricorderà ero andato in Brasile in quel periodo e parlando con le persone quello che sono rimasto un po' scioccato è che c'era un fortissimo senso di insoddisfazione e quindi di critica verso il sistema politico verso la situazione politica sociale economica eccetera però nessuno aveva una soluzione nessuno aveva lascia stare la soluzione una direzione da seguire è come per dire non voglio essere malato ma non so neanche che cosa sia lo stato di salute è come per dire voglio fermare la guerra ma non voglio costruire la pace perché non so neanche cosa sia la pace non ci credo nella pace se noi non abbiamo una direzione finiamo per lamentarsi di quello che c'è e non camminare verso nessuna parte rimaniamo fermi lì dove siamo invece di camminare verso qualcosa di meglio è chiaro questo? e qui c'è un punto particolare quando noi osserviamo la nostra propria vita e osserviamo il mondo in cui viviamo corrisponde con quello che secondo noi sarebbe il meglio? se noi ci mettessimo qua a scrivere a descrivere le cose che ci sono nel mondo che noi non siamo d'accordo sono tante no? cose non belle purtroppo sono tante noi viviamo in un momento veramente delicato secondo me su tanti aspetti in Sanskrit viene chiamato l'epoca di Kaliuga poi c'è una parte dove secondo me tutti hanno sempre visto che è un po' come se fosse Kaliuga però effettivamente abbiamo un periodo molto particolare l'attitudine che a me personalmente mi aiuta molto viene dal seguente ragionamento immaginiamo che ognuno di noi qui sceglie un numero ok? ognuno sceglie un numero insieme con questo numero sceglie di sommare sottrare moltiplicare dividere e insieme facciamo una complessa equazione ognuno sceglie un numero arriviamo all'equazione e il risultato dell'equazione è 74 numero qualunque dico eh a me non mi piace 74 chi è il colpevole? chi è che ha scelto il numero sbagliato che ci ha portato a 74? c'è qualcuno che è il colpevole del 74? è quello che ha detto l'ultimo numero? perché prima era 72 e uno ha deciso di sommare 2 eh se avessi detto 3 non saremo a 74 e lui dice sì però guarda che quello prima di me ha detto 8 e ha sottratto se avessi moltiplicato saremo già diversi domanda il risultato di questa equazione è aleatorio o è perfetto? per perfetto non si intende dire che corrisponda con quello che vogliamo si intende dire che dinanzi a tutte le parti non poteva che essere così ok? ci siamo? semplice non è che ci vuole il lauree in filosofia no? una cosa abbastanza ovvia adesso pensiamo alla vita di ognuno di noi con tutte le sue sfumature lavorativamente fisicamente mentalmente emozionalmente le relazioni umane ogni aspetto che c'è insieme della vita nostra nel momento presente e vi chiedo la vostra vita la mia vita è aleatoria o è perfetta? è faticoso dirlo? però la nostra vita è perfetta o non è perfetta? e per perfetta non intendo dire che non ci siano problemi eccetera eccetera intendo dire che dinanzi a tutte le interazioni avvenute finora non poteva che essere così perché ogni piccola parte ogni piccola interazione è come un'equazione in sé è come parte di una complessa equazione ok? pensiamo a qualcuno che ci sta antipatico o una situazione che ci sta antipatica che non ci piace quella situazione quella persona è aleatoria o è perfetta? è difficile dirlo perché noi abbiamo un'idea che se io dico che è perfetta vuol dire che io ecco vabbè è così quindi è perfetto così rimane no la chiave qua è accogliere il presente senza essere in opposizione al presente e al passato noi non ci mettiamo in opposizione né al presente né al passato perché il presente e il passato sono perfetti non poteva che essere così però io mi direziono con consapevolezza e determinazione verso il futuro che voglio vedere non lo so ho mal di pancia ma cosa ho mangiato ma perché non importa adesso più di tanto andare contro e lamentarmi di cosa è successo cosa devo fare? non lo so bere qualcosa una tisana che mi fa bene aspettare un po' prendere una medicina fare un esercizio faccio qualcosa per star bene non mi piace il 74 è inutile stare a guardare indietro devo cosa devo fare? sommare sottrare aggiungere qualcosa in altre parole è un'attitudine fondamentale che è quella di accettazione di essere in pace con il presente e con il passato che non vuol dire subire non vuol dire di sottomissione che sottomissione e subire vuol dire è così non posso fare niente è un'attitudine che riguarda verso il futuro invece qui no noi diciamo io non mi metto in opposizione a ciò che c'è e allo stesso tempo mi direziono verso ciò che voglio che ci sia io mi accolgo per quello che sono con tutte le mie sfumature e mi direziono verso ciò che voglio essere però per questo è fondamentale per noi uno accettare noi stessi accettare gli altri e ricordiamoci che accettare non vuol dire subire accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione non nel problema quindi io non mi metto in opposizione al presente e mi direziono con consapevolezza con determinazione verso il futuro che voglio o meglio cerco di interagire nel meglio delle mie capacità per andare in quella direzione lì ok la direzione da che cosa viene determinata dai nostri pensieri dai nostri desiderio adesso una parentesi veloce abbiamo detto prima che fra la sofferenza fisica e mentale abbiamo molta più sofferenza mentale giusto? prendiamo la sofferenza mentale la dividiamo in due categorie volendo in tre passato presente e futuro quale sono se noi uniamo passato e futuro insieme dove soffriamo di più passato e futuro o presente passiamo più tempo nel presente a rivedere il passato e proiettare il futuro o a vivere quello che sta accadendo nel momento presente in altre parole noi passiamo più tempo a risoffrire il passato e a pressoffrire il futuro o a soffrire il presente in realtà si soffre poco si risoffre tanto e si pressoffre tanto perché quella volta quella volta vuol dire anche cinque minuti fa ma l'hai detto ma come ti sei permesso ma non avresti dovuto ma hai visto quello che è successo ma questo non doveva essere così perché di qua perché di là e andiamo avanti io mi ricordo una volta che eravamo in Tibet e stavamo facendo un viaggio di gruppo ci fermiamo in un villaggio da qualche parte vengono i tibetani dei villaggi a salutare e hanno questa tradizione di mai venire con le mani vuote e portavano quello che avevano lì e fra questo hanno portato dei loro formaggi formaggi che vengono messi tipo con dei cubetti secchi con un filo in mezzo tipo anche come colano ogni tanto e hanno preso questi formaggi e hanno regalato formaggi che di solito per mangiarli vengono cucinati per ore perché sono più duri di una pietra che è il modo anche di fare in modo che durano negli anni questi formaggi ok succede che io dopo di qualche ora vedo qualcuno con quella cosa in bocca che gira da una parte all'altra poi c'è un gusto fortissimo a me non mi piace io vedo la persona e dico guarda che se lo tieni in bocca ti piace? ho detto no se lo tieni in bocca torneremo in Italia dove sarai a casa tua ce l'avrai ancora lì ok quando mettiamo qualcosa in bocca che non ci piace il gusto quale sono le alternative un po' più intelligenti? o sputti o? in goi ok non è che lo tiene lì a rigirare in bocca io ho già visto persone che portano a casa qualcuno con cui hanno problemi poi lo portano addirittura a letto e anche in vacanze uno arriva a casa ma perché tu non sai quello lì mi ha detto mi ha fatto perché di qua perché di là quando noi accettiamo che il presente è come l'equazione è come la foglia che cade da un albero e non poteva che cadere lì visto tutte le interazioni le varie varianti possibili e quindi noi riusciamo in qualche modo ad essere in pace in pace inteso non essere in conflitto in opposizione al presente nei comportamenti degli altri di noi stessi delle situazioni in cui viviamo a quel punto consumiamo la nostra energia di più guardando verso il futuro nella consapevolezza del presente perché è il presente che costruisce il futuro ok il futuro è importantissimo perché è nella nostra immaginazione e una delle cose più potenti che noi abbiamo è la nostra immaginazione chiedetemi voi le cose più incredibili che gli esseri umani hanno fatto anche dal punto di vista tecnologico piuttosto che medico qualunque cosa dove sono cominciate? nell'immaginazione nella mente prima si immagina poi si come faccio a realizzarlo e un passo dopo si fa per dire io oggi devo essere a Bologna alle 6 poi dopo devo essere a Cesena cosa succede? questo per adesso è futuro futuro nel senso che uno programma uno immagina e proprio perché immagino quello che vado ad agire nel presente in quella direzione per riuscirci ad arrivare come è possibile che io sia oggi qui perché abbiamo immaginato questo momento e quindi visto che l'abbiamo immaginato e l'abbiamo desiderato abbiamo interagito in tanti modi per essere qui oggi insieme il futuro è importantissimo ma dobbiamo scegliere il nostro futuro non viverlo come una conseguenza e ogni piccola azione va a determinare il risultato finale per concludere volevo sfiorare una cosa per me molto importante che la nostra mente ha un potere enorme sia di farci del bene che del male però la nostra mente ha anche delle sue regole la nostra mente ha anche un componente estremamente connesso con il nostro corpo e con l'ambiente in cui viviamo è tutto connesso per me mente corpo sono in realtà due manifestazioni dello stesso a livelli diversi qualcuno dice ma quando uno muore c'è una parte anche fisica che continua di vita in vita chiamata corpo molto sottile nella tradizione buddista però questo è un altro argomento fatto sta che noi non siamo così forti in poche parole cosa succede quando sperimentiamo un piacere chimicamente nel corpo sperimentiamo dopamina ok c'è una carica di dopamina una scarica di dopamina questo neurotrasmissore che è quello che avviene quando sentiamo piacere quando il piacere finisce cosa succede rimaniamo in uno stato di beatitudine di soddisfazione o entriamo in un vuoto di insoddisfazione che vogliamo ripetere qualcosa per riottenere il piacere e anche chimicamente parlando viene detto che più forte è la carica di dopamina più forte è il vuoto che andiamo dopo perché abbiamo questo meccanismo per una ragione fondamentale se io ottengo qualcosa e tramite quel qualcosa sento un piacere sento lo suono della campana e sento piacere con quello finisce quello piacere finisce io voglio ripeterlo quindi se io voglio ripeterlo vuol dire che io mi rendo disponibile per affrontare le difficoltà necessarie per ripetere quella esperienza ok e qui rientra quello che viene chiamato il nostro sistema di ricompensa che vuol dire io sono disposto ad affrontare delle difficoltà delle fatiche per ottenere qualcosa per fare qualcosa perché ritengo che quella cosa è buona mi fa bene eccetera ok quindi io ho un piacere finisce il piacere c'è il vuoto voglio ripetere il piacere più forte il piacere più forte il vuoto più voglio ripetere quella cosa ci siamo ok in fondo noi vogliamo il suono o vogliamo la sensazione di piacere vogliamo la sensazione di piacere se io ho la sensazione di piacere con il suono ma ce l'ho anche con l'acqua e l'acqua ce l'ho qui il suono devo andare comprare la campana alla fine quale scelgo l'acqua ok più forte il piacere più forte il vuoto chimicamente parlando più forte sono le cariche le scariche di dopamina più abbiamo dopamina meno abbiamo di serotonina che riguarda la soddisfazione ok la dopamina viene prendendo la serotonina viene dando fra altre cose condividendo noi spesso proiettiamo la nostra felicità nel prendere nel piacere in un bambino e successivamente anche in un adulto ci sono tre cose quattro quattro cose che separatamente o insieme generano dopamina movimento colori suoni e novità ok se c'è un bebè come fai a stimolare il bebè che è più contento qualcosa fermo movimento movimento colorio o bianco e nero colore silenzio o suono suono sempre la stessa cosa o devi cambiare devi cambiare noi non siamo diversi ok la novità crea dopamina ok cosa abbiamo nel palmo della mano ormai cosa c'è qui dentro novità movimento colore suono ok cosa succede con questo generiamo una sensazione di piacere quando finisce il piacere vogliamo ripettere vi racconto una mia esperienza personale che mi ha fatto riflettere tanto è stato il mio allarme che è suonato ho detto qua c'è qualcosa che è veramente pericoloso circa sette mesi fa mi trovavo a casa dovevo fare la notte perché avevo i cucciolini a casa e quindi erano appena nati eccetera ero sveglio tutta la notte a un certo punto prendo il telefono entro su youtube e vedo che c'è una cosa che non avevo visto prima che si chiamava youtube shorts i video corti brevi entro lì e comincio poi io sono uno curioso io vedo tutto fino alla fine ci sto e quindi stavo lì a un certo punto mi accorgo che sono entrato in una sorta di stato meditativo profondo e circa tre ore dopo ero ancora lì non avevo nessuna distrazione nessuno che mi chiamava niente erano le quattro di notte mi accorgo circa tre ore dopo che ero in quello stato cerco di uscire non riesco come se ci fosse qualcosa che mi tirava verso che a un certo punto riesco ok vado a dormire mi è dormito due ore quando avrei avuto l'altra persona per fare il turno ok verso il mattino al giorno dopo la cosa che più mi ha spaventato è che il giorno dopo non appena ho avuto un momento di vuoto fra una cosa e un'altra cosa volevo? ritornare lì riguardare qualche video ma in realtà a me poco mi importava il contenuto era quella sensazione di cui volevo ritornare ero in astinenza quello che succede oggi con le media sociali è per noi chimicamente una droga qual è il vero uno dei grandi problemi di questa droga come tante altre droghe ma di questa droga perché uno è una droga che ce l'abbiamo tutti alla portata senza nessun tipo di restrizione in qualunque luogo siamo due essendo così facile da avere quello che accade è che in ogni momento noi ritorniamo lì e se io riesco ad avere quel piacere quella mia carica di dose di dopamina sempre che voglio senza dover faticare alla portata di mano io vado a distruggere il mio sistema di ricompensa perché se io posso aver piacere qua perché vado fino lì e gradualmente cosa succede? non siamo più capaci di affrontare le difficoltà non siamo più capaci di avere obiettivi un pochettino più lunghi dove ci siano delle difficoltà di mezzo stiamo in una situazione ci sono delle difficoltà molliamo il colpo perché è faticoso io parlo con amici che insegnano all'università mi hanno detto guarda uno dei grandi problemi che vedo oggi nei ragazzi giovani è che nessuno sa cosa vuole non c'è quella voglia di ah voglio questo voglio quell'altro è come se fossero tutti drogati siamo tutti drogati non è come se ok e il vero problema non è la distrazione non è il fatto che perdiamo tempo non so mi viene in mente un conoscente che da un po' di tempo si sveglia una persona molto colta molto preparata fa un lavoro importante nella società eccetera si sveglia 45 minuti prima ogni giorno per stare lì su TikTok ok è una droga non so se mi avrei venuto l'impito di prendere il cellulare senza avere una ragione è un segno di astinenza ok ma il vero problema per me non so se il vero ma uno dei problemi che questo ci porta riguarda la nostra salute mentale perché potremmo parlare di meditazione ma per dire la verità è molto faticoso riuscire a meditare un minimo bene quando abbiamo una dipendenza del genere uno dei principali nemici della meditazione viene chiamato in tibetano gopa che è quel senso di aver bisogno di qualcosa che è proprio quello che sentiamo quando c'è il vuoto dopo il piacere perché quando c'è il vuoto dopo il piacere non è semplicemente una sensazione del momento riempie il nostro pensiero come faccio per ripeterlo finisce quella cosa ma la nostra mente rimane attaccata lì e la nostra vita si consuma così quindi quello che vi invito è che per darci una bella direzione nella vita dobbiamo riprendere le reddine sulle nostre mani della nostra propria mente dei nostri propri pensieri e questa è una questione chimica non è una questione filosofica spirituale e noi siamo fatti anche di chimica noi abbiamo sistemi nel nostro corpo e nella nostra mente che vengono dai nostri sistemi di sopravvivenza che hanno un senso ma quando vengono esagerati usati nel modo sbagliato vengono contro di noi e questo fa parte di questo quindi io vi invito fra altre cose di vedere se siete coraggiosi abbastanza di stare una settimana senza media sociali una settimana e vedete come vi sentite perché quello che abbiamo bisogno non è di imparare cose nuove ma è di fare quello che noi già sappiamo è di mangiare nel modo sano è di interagire in un modo sano è di coltivare i pensieri che noi sappiamo avere un'attitudine che noi riconosciamo e sappiamo che è quella giusta quindi come utilizzare la mente per essere felice coltivando ciò che ci fa bene abbandonando ciò che ci fa male anche se è faticoso ma per fare questo coltivando il desiderio di quello che vogliamo dove vogliamo andare in altre parole chi vogliamo essere e la buona notizia è che la nostra mente è maleabile costantemente si trasforma e più faccio in un modo più facile diventa fare quello quindi tramite la ripetizione la costanza noi cambiamo la nostra mente e di conseguenza cambiamo la nostra vita ok non aspettiamo che ci siano le condizioni giuste per farlo non aspettiamo domani chissà quando dove come chi perché non avrà mai io ho detto prima voi che uno dei miei difetti è la pigrizia quindi c'è una frase che mi ha sempre accompagnato e volevo concludere con quella che dice in tibetano da un maestro chiamato Kundan Jampelian la traduzione in italiano sarebbe qualcosa del genere pensando di fare pensando di fare sono passati vent'anni non sono riuscito non sono riuscito sono passati vent'anni ah perché non ho fatto ah perché non ho fatto sono passati vent'anni così sono passati sessant'anni questa è la biografia di una vita vuota se c'è qualcosa che noi centeniamo che è importante per noi dobbiamo farlo adesso dobbiamo farlo per la nostra salute fisica mentale ambientale relazionale in tutti i sensi e ce la possiamo fare io vi dico una cosa se io non avessi fiducia in ognuno di noi io non sarei qui a parlare perché poi a me non è che mi piace parlare mi piace condividere però nella mia vita chiamiamo così private nella mia vita io piace stare in silenzio però è il fatto che io ho veramente fiducia che ognuno di noi lo sta facendo quello che può però può fare tanto 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 ancora basta con i piccoli piccoli passi di ogni giorno ok quindi io vi faccio una richiesta se c'è qualcosa che ci siamo detti che voi pensate che in alcun modo possa essere di beneficio cercate di ricordarlo scrivetelo da qualche parte e fate il possibile per metterlo in pratica ok e cominciamo da cose semplici domande azioni e piano piano riusciamo a superare le due importanti sfide della vita che è di abbandonare ciò che fa male però ci piace coltivare ciò che non ci piace però fa bene e un passettino dopo l'altro lo facciamo e così facciamo dei cambi enormi ok questo è tutto io voglio ringraziare molto per ognuno di voi per essere stati qui insieme per essere qui con il cuore aperto con la mente attenta voglio ringraziare il centro Studium Yoga per aver organizzato questo momento per aver reso possibile questo incontro tutto qui grazie mille e continuiamo a camminare nella stessa direzione grazie grazie a tutti grazie a tutti